Attenzione, The Voice of Vitaly sta tornando! Io voglio la rabbia, voglio la gioventù, voglio l'energia e anche la disperazione. A far l'amore cominciare. Voglio una squadra eccezionale, perché voglio trasmettere loro tutto quello che io ho imparato, ma senza toccare minimamente la loro personalità. Mi raccomando ragazzi, I want you!